Salve a tutti, oggi siamo in compagnia di Pinuccio Lavima, qui a mio fianco, che fino a qualche ora fa, dobbiamo dirlo, era segretario regionale dell'Udc, adesso vediamo, ma ne parleremo a breve. Quello di cui possiamo iniziare a parlare è che sabato si è svolta la convention, l'apertura della campagna elettorale dell'ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che ha finalmente, dopo che se ne parlava da mesi e mesi, sposato il progetto dell'Udc. Tra i grandi assenti mancava proprio la tua figura. Questo già faceva presagire un rapporto che non andava bene, che si è andato a concretizzare sabato scorso con la tua assenza durante la convention. Partiamo da questo. Perché hai deciso innanzitutto di non presentarti al candidato di spicco cittadino dell'Udc, ovvero Ignazio Abbate, a quello che doveva essere il suo momento di festa, di massima esposizione mediatica? Vi ringrazio intanto per l'invito che mi avete rivolto. Non sono andato per un motivo di coerenza. Io credo che ancora nei valori che debbano caratterizzare una persona allorquando entra in un impegno politico. Io questo impegno politico lo porto avanti da ben 44 anni, allorquando nel lontano 1978 presi e mi iscrissi per la prima volta ad un partito che era l'allora gloriosa e purtroppo oggi non più esistente democrazia cristiana. Da quel momento in poi io ho acquisito una forma e una cultura politica anche nel fare politica che proviene da vecchi e antichi, più che vecchi, antichi schemi di appartenenza ad un partito. All'interno di un partito c'erano delle regole, c'era uno spirito di appartenenza assolutamente spiccato che addirittura era paragonabile ad un matrimonio indissolubile. Figuratevi, io ne avevo testimonianza diretta, allora quando c'era un solo iscritto al partito che magari rappresentava la sua divergenza, la sua non complicità, si mobilitava tutto il partito per capire il perché quell'iscritto manifestava questo disagio, queste difficoltà. e all'epoca c'era l'intera classe dirigente che si mobilitava anche per recuperare un singolo iscritto. Oggi purtroppo non è così, però se oggi non è così e quindi i partiti ormai sono cambiati nelle regole, non possono cambiare gli ideali, le coerenze, le lealtà, il modo di fare politica al cui tu ti sei formato all'interno di un partito. Per cui io in queste scelte operate dal partito non le ho condivise, non le ho condivise nella sostanza, diciamo perché io non dimentico i primi cinque anni. Abate era dell'Udc comunque. Assolutamente, praticamente la prima legislatura abbiamo fatto la campagna elettorale insieme perché c'era l'Udc e le tre liste civiche di Abate. Abbiamo ottenuto un grande risultato per Leo, salvo poi successivamente il partito dell'Udc non andava più bene al sindaco già eletto, appena eletto. E per cui iniziavano tutta una serie di divergenze, di tentativi di emarginazione del partito che poi si sono concretizzati con il passaggio dei quattro nostri consiglieri comunali, tre per la verità consiglieri comunali, all'adesione ad Ignazio Abate, alla sua liste, al suo gruppo. Praticamente l'unico che è rimasto a fare da baluardo coerente con quello che è stato era l'allora, fu un'allora presidente del consiglio, Roberto Garaffa, che visse al comune cinque anni per il livello di contrasto. Che cos'è che è andato male però adesso, per cui infatti tu non sei d'accordo su questo ritorno di Abate nel Udc? Quali passi non sono stati rispettati? Io secondo me parlo perché secondo me all'interno di un partito non sono state abolite le regole procedurali. Allora, credo che in questo senso alcune procedure non siano state attuali, almeno non sono di mia conoscenza, ma addirittura sono state stravolte e invertite. Mi riferisco in particolare. Qualora il candidato oggi, ex sindaco Ignazio Abate, secondo me il partito doveva fare una procedura che è la prassi normale. Prima tu acquisisci l'adesione al partito del candidato. Ma è tesserato appunto, scusate, non lo so, ma tesserato che a me risulti fino a non mi risulta. Poi non lo so se l'ha fatto contemporaneamente, però non mi è. Allora, la regola è quella là. Un personaggio, persona, chiunque esso sia, aderisce a un partito, il segretario regionale, il segretario nazionale, indicano una conferenza stampa nella sede regionale del partito e dicono da oggi si ha l'adesione a questa successivamente, una volta che si è aderito al partito, come aderente e militante di partito organizza magari una presentazione per la sua campagna elettorale e invita tutto il partito. Secondo me questa è una procedura assolutamente importante. chi ha scelto è l'uomo non che sceglie il partito in questo caso, ma è stato appunto lo dici, il partito a scegliere l'uomo, il candidato a tal punto, forse questo che contesti, di essere andato a casa sua per il primo giorno, ovvero sabato. No, no, è al contrario, non è il partito che sceglie il candidato, ma è il candidato che si utilizza da parte del partito e tuttavia per essere candidato. Allora, questo qua, io credo che sia una testimonianza, è un atto, ma è una mia valutazione personale, io su queste cose sono pronto a confrontarmi con chiunque in qualunque sede. Io ritengo che se, e l'ho detto anche coerentemente che in precedenza il partito, per come lo vedevo io, per come le riunioni a cui partecipavo, diciamo che era votato verso il 5% di un candidato, tranquillamente. Allora, la gente che cosa può pensare nel momento in cui un intero partito si sposta con questo grande clamore nei confronti di un candidato, per me politicamente è una lettura di debolezza politica del partito rispetto invece a quello che dovrebbe essere una forza nel senso di dire io il 5% lo raggiungo in ogni caso. Però siccome è chiaro che ci interessa lavorare sui territori, acquisire consenso sui territori, allargare il consenso sui territori eccetera eccetera, però operando in questa maniera praticamente secondo me è un atto di debolezza politica del partito piuttosto che un atto di forza. Queste cose io non le ho condivise, non ho condiviso la scelta per i motivi pregressi, per cui nessuno, nessuno, dico nessuno, si può permettere che Pinuccio Lavima rinunci ai propri principi, ai propri valori, ai propri ideali, anche avendo acquisito in passato determinate situazioni di divergenze su questo per andare a sedersi a fianco, addirittura dover sostenere un candidato per i quali c'è stata una storia passata. Siccome Pinuccio Lavima una storia ce l'ha, non ha necessità di raccontare nuove storie, ma possiamo raccontare la nostra storia ed è quello che mi ha indotto. Una domanda che la devo fare, proprio ultimamente, mi sembra quest'anno stesso, sei stato promosso appunto a vice segretario regionale dell'Udc, mentre prima invece eri segretario cittadino. Provinciale. Sì, provinciale. Secondo te questa, almeno per quello che si sente proprio in questo momento in giro, è stata una mossa studiata a tavolino? Assolutamente sì. Sei vittima, ti senti vittima di questa strategia? Assolutamente, perché quando io sono stato chiamato dal segretario regionale che mi ha consegnato la lettera di nomina, contemporaneamente, seduto accanto a me, c'era l'attuale coordinatore provinciale, il nuovo coordinatore provinciale, a cui il segretario provinciale ha consegnato contemporaneamente le due lettere, con cui io venivo nominato vice segretario regionale e Silvio Melli veniva nominato nuovo coordinatore provinciale. Io non sono l'ultimo arrivato in politica, probabilmente ho molta più esperienza anche dal segretario regionale e di tanti altri dirigenti, quadri e amministratori del partito. Per cui io non ho voluto su quello immediatamente dare l'impressione che, ah, Pinuccio Lavima è snob, eccetera, eccetera, assolutamente, però siccome immaginavo che ci fosse qualcosa, ho detto, mi riservo di accettare questa candidatura. Poi i fatti mi hanno dato ragione e per cui non so fino a che punto praticamente questa scelta non sia stata influenzata da terzi. Sa di fatto che quindi l'Udc, per rispondere all'ultima domanda che cosa farà Pinuccio Lavima e che cosa ha deciso? L'Udc perde 44 anni di esperienza da parte sua, non siederà più quindi tra le fila dell'Udc e quindi appunto che cosa farà Pinuccio Lavima e che cosa ha deciso? Allora, io ho detto già di rinunciare totalmente a tutte le cariche di cui io attualmente ricopro nel partito, quindi non solo quella di Vice Secretario regionale, Consiglio nazionale, non di regionale, eccetera, eccetera. Tutte queste cariche io rinuncio di converso nel momento in cui non si condivide le scelte e la linea del partito sul territorio di cui fino a ieri, fino all'altro ieri, io sono stato responsabile. Allora, quando non si condividono le scelte degli uomini, non tanto gli uomini in se stesso, ma per come e quali atteggiamenti ha assunto questi uomini nei confronti del partito in passato, mi pare che sia il minimo che io possa fare, ritornando alla mia coerenza, alla mia formazione politica, alla mia serietà politica e quello non solo di rinunciare alle cariche, ma conseguenzialmente se non condivido la linea, le scelte e le cose, rinuncio alle cariche, ma è del tutto evidente che esco dal partito. Perfetto, ringraziamo Pinuzio Lavima per essere stato qui ospite con noi, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi.